vi siete mai dimenticati di regolare bene il gain prima di registrare avete avuto un audio troppo forte che è andato in clip e non è potuto essere recuperato oppure avete registrato troppo basso e quando avete alzato il volume vi siete portati su anche un noise floor un rumore di fondo terribile bene con il rode nt1 fifth generation dimenticatevi questi problemi perché oltre a essere connesso tramite xlr c'è la possibilità di connetterlo tramite usb c e registrare a 32 bit float veramente tanta roba oggi parliamo del rode nt1 fifth generation quinta generazione è un microfono che il rode definisce rivoluzionario perché oltre ad un connettore xlr presenta anche un connettore usb c tramite questo possiamo registrare a 32 bit float quindi a virgola mobile dimentichiamoci quindi di clippare o registrare l'audio a volumi adeguati possiamo sempre recuperarlo in post è un microfono che vanta un rumore di fondo noise floor bassissimo 4 db che è un valore che dichiara la rode essere il più basso al mondo è sicuramente un microfono interessante e vediamo un po queste sue caratteristiche la capsula hf6 da un pollice permette di registrare la ricchezza dei suoni è tipica questa dei microfoni a condensatore a diaframma largo lo distinguono per esempio da un microfono dinamico come può essere lo shure essence 7b questo microfono appunto ha questa capacità di registrare molta ricchezza suoni molto bassi ma suoni anche che hanno un spl molto alta una sound pressure level molto elevata e quindi si presta bene anche a registrare un cantato dove dove si urla ovviamente dobbiamo avere un software e tutta una catena di registrazione che permetta di non di non clippare e di registrare il tutto al meglio la costruzione è ottima sia la capsula che il corpo non ha resonanza non ha resonanza e da un punto di vista costruttivo non possiamo dire nulla che non sia ottimo di questo microfono è innovativo il dual connect ovvero la possibilità di connetterlo classicamente con un cavo xlr e quindi collegarlo alla nostra interfaccia audio in questo istante è collegata alla focusrite scarlett 2i 2 ford generation oppure abbiamo ancora la possibilità di connetterlo tramite il connettore usb c che è nascosto all'interno del fondo del microfono e connetterlo quindi direttamente ad un computer quindi tramite un'app come può essere quella della road road connect o road central oppure una nostra do registrare direttamente tramite la nostra la do preferita direttamente e possiamo avvalerci e questo è un plus da non poco della registrazione a 32 bit flot a virgola mobile la registrazione a 32 bit flot come ho avuto anche già occasione di parlarne una recensione sullo zoom f3 di recente permette di registrare indipendentemente dal gain selezionato in fase di registrazione quindi noi possiamo anche dimenticarci di regolare il gain e effettuare quest'operazione dopo a posteriori questo ci salvaguardia dal fatto di registrare con volumi adeguati magari troppo bassi e quando dobbiamo andare a alzare il volume per avere un gain un volume normale alzeremo anche molto rumore di fondo oppure se la nostra registrazione è andata in clipping e se la registriamo a 24 bit è persa non è recuperabile invece tramite a 30 la registrazione a 32 bit flot possiamo andare a recuperare tranquillamente la registrazione come funziona il suono arriva alla capsula dalla capsula passa preamplificatori dei preamplificatori ai convertitori ai di ovvero analogico digitale ci sono quattro convertitori immaginiamoli come quattro convertitori che sono deputati ognuno a elaborare un segnale ad un determinato gain quindi ci sarà quello per il suono con un spl più forte più elevata di tutti quindi un suono molto forte uno un po più debole uno normale uno molto basso quindi a seconda del del convertitore che viene utilizzato potremo andare a acquisire un audio a diversi stadi di gain senza preoccupazione di clipping o di registrare a volume troppo bassi la conversione analogica digitale può avvenire fino a 192 kHz quindi ottimo viene fornito con uno shock mount che è utile per smorzare qualsiasi rumore o vibrazione dovute a tocchi dell'asta del tavolo eccetera è fatta in metallo molto buona e precisa abbiamo poi naturalmente il microfono viene fornito anche un cavo usb c di ottima fattura e il connettore è molto piccolo è molto stretto quindi non è facile trovare un cavo usb c che eventualmente si adatti al all'entrata all'ingresso usb c sul fondo del microfono abbiamo poi anche in dotazione un cavo xlr di buona fattura mi sembra molto lungo io sono affezionato ai miei per cui uso soltanto questi miei della reference e poi abbiamo anche un pop filter pop filter e come rode fa da da un po di tempo gli piace molto segnare il suo nome su tutte su tutte le cose si fa pubblicità eccetera questa cosa non è che mi piace tanto va bene la cosa carina di questo pop filter è che la scritta rode può essere letta da un lato dall'altra correttamente quindi se noi lo invertiamo lo leggiamo e in trasparenza non si vede la scritta che dall'altro lato quindi da un punto di vista ingegneristico è un'ottima trovata fatta bene la finitura è molto buona è disponibile in due colori e sia tutto grigio come la capsula oppure nero e grigio l'ho preferito nero mi piace molto questa questa tonalità questo colore qui e i prezzi si girano sui 240 260 euro lenti one generation è l'erede del ben famoso nt one introdotto per la prima volta nel 1991 un classico dei microfoni a condensatore da studio in un diciamo in una fascia di prezzo entry level media insomma però si è sempre distinto insomma per un'ottima qualità resistenza robustezza del microfono e un'ottima qualità nel nel raccogliere nel registrare i suoni quindi suoni ricchi e anche caldi all'interno del microfono è presente un potente dsp che permette di utilizzare effetti come noise gate compressor exciter e vari altri insomma naturalmente effetti sono utilizzabili anche tramite le app che dicevo prima della road scaricabili gratuitamente road connect e road central praticamente abbiamo una sorta di road caster in miniatura su computer anziché fisico su computer quindi la possibilità di applicare questi effetti e creare registrazioni e anche convertire i file praticamente road central è un'applicazione che permette di accedere all'elaborazione avanzata affex o agli effetti al controllo del guadagno in ingresso e agli aggiornamenti del firmware mi raccomando aggiornate sempre il firmware road connect invece è una soluzione software semplice per il podcasting e permette appunto di accedere al dsp avanzato del microfono e agli aggiornamenti firmware anche questo e consente anche di collegare più microfoni nt1 fifth generation direttamente mi sembra fino a 5 quindi se avete la necessità di fare un podcast potete tranquillamente utilizzare quest'app chi non ha avuto esperienza con questo tipo di microfoni a volte ha problemi a capire qual è il punto giusto verso cui indirizzare la propria bocca rispetto a questo microfono sopra sotto di lato eccetera è semplice road ha messo un cerchietto dorato in corrispondenza del punto in cui dobbiamo posizionare la nostra voce è bene appunto che venga indirizzata verso il microfono ovviamente è un microfono che capta più suoni rispetto ad un dinamico non c'è bisogno di stare così vicino come un dinamico capta anche più rumore ambientale rispetto a un dinamico quindi prestiamo attenzione anche a questa cosa qui se lo scegliamo per fare voice over podcast eccetera vediamo com'è la rejection ovvero il rigetto dell'audio quando siamo off axis cioè fuori dell'asse ideale di ripresa questo è l'asse ideale di ripresa adesso sposto il microfono sposto il microfono adesso praticamente sto a lato rispetto all'asse ideale di ripresa e adesso invece praticamente sto dietro rispetto all'asse ideale di ripresa sempre alla stessa distanza ma dietro e adesso ritorno 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 vicino ritorno eccomi sono ritornato in asse un microfono come questo è sensibile alle plosive ovvero alle p e alle b le esplosive anche definite pazzo prendi un pezzo di pizza pazzo prendi un pezzo di pizza la capsula è da un pollice a un polar pattern cardioide range di frequenza va da 20 years a 20 kilohertz a un'impedenza in uscita di 100 ohm e maximum xpl ovvero la massima sound pressure level è di 142 decibel ovviamente se collegate il microfono ad una scheda audio tramite la connessione xlr la scheda audio deve fornire l'alimentazione phantom a 48 volt al microfono quali sono secondo me i lati negativi di questo microfono comunque migliorabili non è presente nessun tasto per la regolazione del gain del volume nessun led che ci avvisa se il microfono è attivo o no questo secondo me non è un problema non è un difetto perché a me piace la forma così liscia pulita del microfono non è presente neanche però un'uscita cuffie e se noi facciamo il monitoraggio in cuffie tramite connessione xlr va benissimo ma se lo connettiamo tramite usb si abbiamo un problema di latenza ovvero noi pronunciamo una parola la sentiamo nelle cuffie con un leggero ritardo anche se interveniamo sul buffer size anche se appunto selezioniamo la super low latency il ritardo c'è ed è fastidioso questo è un punto sul quale secondo me road dovrebbe concentrare un po gli sforzi un altro problema riguarda sempre a mio avviso la connessione usb si in questo esemplare che ho io registrando con volumi molto alti recupero benissimo senza nessun problema di clipping se registro con volumi molto bassi del gain impostato tramite o l'app insomma del computer oppure tramite l'app road connector road central quando vado a tirare su il gain e a normalizzare la traccia per recuperare l'audio sento nelle parti in silenzio delle suoni is ronzi spiacevoli quindi ci deve essere qualche problema a livello al livello dentro elettronico credo sia soltanto questo modello sfortunato che cambierò perché ho visto altre prove e questo problema non si verificava concludendo è un ottimo microfono è molto bello è robusto fatto bene ha la possibilità di innovativa di avere una doppia connessione xlr o usb si registrare a 32 bit flotte per chi appunto ne ha bisogno è un plus da non poco la qualità della registrazione diciamo è vincente è paragonabile a microfoni ben più costosi per quanto riguarda la qualità di registrazione e quindi mi sento di consigliarlo bene se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate le notifiche così non perderete i prossimi video ci vediamo alla prossima ciao ciao